La cherel tra Lapo Elkan ed Evelina Cristi Len è quella di cui noi tifosi giuventini proprio non avevamo bisogno. La Cristi Len, amica d'infanzia di Margherita Agnelli, che è madre anche di Lapo Elkan ed è in causa anche con Lapo Elkan per l'eredità di Gianni e Marella, componente FIFA nel consiglio UEFA, qualche settimana fa aveva detto vista la situazione della Juventus con la penalizzazione c'è il rischio che tanti bambini non inizino a tifare per la Juventus. Un video che mostra invece un bambino entusiasta di andare per la prima volta all'Allianz Stadium è stata l'occasione per la risposta di Lapo Elkan. Non conta niente, troppa gente parla a Vanvera e poi un tweet con un attacco mirato personale, PS, suggerisco ad Evelina un update, ma soprattutto non c'entra niente con la famiglia. Non so onestamente chi abbia ragione, ma neanche tanto mi interessa. La cosa importante sarebbe che la Juventus non fosse vittima di queste beghe familiari. Risolvetela come vi pare con la causa ereditaria, con Exor e tutto quello che volete, ma lasciate in pace la Juventus.